Da Walt Disney Home Video, un mondo magico che sarà tuo da custodire per sempre. La Walt Disney Home Video La Walt Disney Home Video La Walt Disney Home Video In panico nella notte, Darkwing, Ocalina e Jet si alleano per combattere contro Toro Sbulba. E in La Grande Sfida troverete Darkwing alleato alla più favolosa squadra di supereroi contro i Cinici Cinque. Quindi dategli addosso con i primi due video della nuova serie di Darkwing Duck dalla Walt Disney Home Video. E' favoloso! Entrate nel meraviglioso regno della fantasia attraverso un classico di Walt Disney che non conosce età. La bella addormentata nel bosco, l'affascinante storia dell'incantesimo di una strega. Indietro, facci! Oh no! E i tentativi per salvare una principessa dal suo destino maligno. Ma ci deve essere un sistema. Una favola indimenticabile per tutta la famiglia. Una storia d'amore. Piena di avventure e di magia. Un classico da vedere e rivedere. La bella addormentata nel bosco. Ora in videocassetta. Volate oltre la stella più brillante fino al magico mondo di Euro Disney. Una girandola di emozioni. Una festa di musica e colori vi attende ogni giorno dell'anno. Perdetevi fra le tante fantastiche attrazioni. E per finire, continuate il sogno negli splendidi hotel. La vostra casa nel regno della magia. Scoprite il paese delle infinite meraviglie. Euro Disney Resort. È un vero Walt Disney? Solo se ha la garanzia di autenticità e qualità dell'ologramma argentato ed il marchio Univideo presenti sulla confezione. Non accettate i falsi. Esigete sempre e solo videocassette originali Walt Disney Home Video. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS Grazie.